Con una conferenza stampa in quest'ora nella sala Emanuele Aloi, oggi il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha presentato alla stampa la mostra fotografica nazionale itinerante della Polizia di Stato. Frammenti di storia, l'Italia attraverso le impronte, le immagini, i sopralluoghi della Polizia scientifica. Sono 48 i pannelli in un percorso guidato con teche filmati ed approfondimenti effettuati dal personale della Polizia di Stato che da lunedì 21 fino al 28 marzo a Caltanissetta, all'interno di Palazzo Moncada, racconteranno come la Polizia scientifica sia stata nel tempo esempio a livello mondiale di professionalità ed alto profilo tecnico. La mostra ha come obiettivo quello di ripercorrere la storia della Polizia e ripercorrendo la storia della Polizia, in particolare della Polizia scientifica, ci accorgiamo che di fatto ripercorriamo la storia sociale del Paese. I momenti più difficili, i momenti più importanti, sia di fatti, di eventi pubblici, catastrofici, di reato, di calamità, andiamo dai terremoti ovviamente agli ecili di terrorismo, di mafia. La mostra è rivolta alla cittadinanza intera e a chi è appassionato di criminalistica, ma anche al mondo della cultura e delle nuove generazioni. Parteciperanno moltissime scolaresche, abbiamo già, c'è ancora qualche spazio, quindi qualche istituto che volesse ancora farlo, ma già sono più di 800 i ragazzi che si alterneranno durante la settimana di mostra. Un evento gratuito e visitabile al mattino e al pomeriggio e anche nel weekend. Il questore è inoltre anticipato alla stampa, che sarà pubblicato entro aprile dopo la 170esima festa della Polizia, un libro dedicato alla storia della questora di Caltanissetta, scritto dal sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio Comunicazione, e sarà lanciato proprio il 10 aprile.